E' Juan Francisco Fuentes Samora, il nuovo allenatore dell'Acqua e Sapone Calcio a 5. Spagnolo di Murcia, classe 79, Fuentes raccoglie l'eredità di Massimiliano Bellarte. Bel gioco, qualità e valorizzazione dei giovani sono i fattori che hanno convinto il club della famiglia Barbarossa a scegliere l'allenatore che quest'anno ha portato la Luparense a giocarsi la semifinale Scudetto dopo un difficile inizio. Fuentes ha iniziato nella squadra della sua città, il Poso Murcia, e prima di approdare in Italia ha compiuto un biegno con il Casma in Kuwait. Sono molto contento di arrivare a questa società, aspetto a stare al livello che questa società merece perché stanno facendo un esforzo grande per il Caccia 5, già con sei anni fa, che stanno lavorando con questo sport e per me è un'opportunità molto grande e aspetto a approfittare al massimo e apportare il mio conoscimento, la mia esperienza per che questa società continui crescendo e che arrivi al massimo possibile. È soddisfatto Fuentes del roster che sta nascendo con l'Acqua e Sapone che dopo aver confermato tre assi come Murilo, Jonas e Mamarella, ha messo sotto contratto De Oliveira, Romano e il capitano azzurro Gabriel Lima. La società sta facendo un esforzo per fare una buona squadra, per ilusione a tutti, ai tifosi, a tutti che lavorano in questa società giorno a giorno, che fa un esforzo grande e dà tutto quello che c'è per crescere e anche per me, perché venire qua per allenare a questo tipo di giocatori dimostra che è un'opportunità per non pensarla due volte, sino a decidere alla prima. Grazie a tutti.